eccoci qua pronti per salutare riccardo magnani ricercatore scrittore ciao riccardo ben trovato ciao beatrice oggi sono dante ecco avevo veramente bisogno di una persona che mi portasse all'interno della divina commedia ora teoricamente i ruoli dovrebbero essere invertiti essendo beatrice con lei che poi accompagna dante ma la divina commedia che è stata scritta nel 1321 quindi ricorrono 700 anni e tra l'altro è uno dei poemi più studiati nelle scuole di tutto il mondo chiariamo anche subito che è la nostra opera prima per quello che riguarda la letteratura italiana certamente merita un posto di primo piano tante cose sappiamo molte che derivano ovviamente dalla scuola quando si studia letteratura ma tante cose non sappiamo è proprio quelle che vogliamo indagare con te oggi quindi hai la possibilità di essere anche virgilio oltre che dante scegli tu porca miseria quante cose allora no no preferisco essere riccardo magnani e chiaramente voglio mettere subito in chiara una cosa cioè io non sono un dantista non mi occupo di carie di gengive no rimango la persona che studia leonardo rinascimento e quel sapere che ha delle radici profonde nel neoplatonismo e prima ancora il mondo pitagorico orfico e quindi non voglio entrare nella maniera più assoluta nello specifico del così delle terzine dantesche e tutto il resto però quello che ti posso dire è l'omologazione che ha quest'opera con tutta una serie di altre opere importanti della nostra del nostro patrimonio culturale che ci permettono di comprendere come la lettura che viene fatta di quest'opera prevalentemente nelle scuole perché poi ci sono dei circuiti paralleli che invece ne raccontano in maniera completamente diversa i fondamenti è una lettura abbastanza distorta noi siamo soliti conoscere come dicevi la divina commedia attraverso quello che ci viene detto ho fatto studiare a scuola quello che con una capacità comunicativa eccezionale ci viene raccontato da benigni che è un narratore unico magari non lo condivido per tanti altri aspetti però sotto profilo della narrazione della divina commedia è sicuramente unico però ci fa apprezzare ci trasmette dei contenuti che sono completamente diversi da quelli che effettivamente sono stati narrati è vero che oggi quest'anno ricorre il settecentenario dalla morte di dalla pubblicazione esatto la pubblicazione che poi è un dato estremamente controverso so che firenze si sta preparando in tantissimi modi per celebrarlo sappiamo che ad esempio del manoscritto originale non esiste una una versione quello che noi conosciamo sono versioni rimaneggiate o comunque delle versioni che hanno copiato quello che probabilmente era l'originale il titolo stesso viene attribuito solo da boccacci in un secondo tempo inizialmente era commedia questa attribuzione della divina già ci lascia intendere come ci sia probabilmente una seconda lettura e una terza e una quarta e probabilmente c'è anche chi asserisce che non è stato soltanto dante a scriverla c'è anche chi asserisce questa cosa questo è un po una caratteristica trasversale a tutti questi metrapensè nel senso se pensiamo a pitagora se pensiamo a back lo stesso back identificano più delle scuole di pensiero che non delle identificarsi con una persona vera e propri e già questo ti lascia intendere come dietro questo romanzo che così sicuramente qualcosa che ci contraddistingue all'interno del panorama culturale mondiale ci siano delle letture estremamente diverse è un romanzo storico perché all'interno della sua trama ci sono tantissimi riferimenti storici in questo lo accomuna ad esempio un'altra opera importantissima a me cara perché ovviamente essendo di lecco sai bene quali collegamenti ci siano con quest'opera per chi abita lecco richiama i promessi sposi che è un'altra opera storica ambientata nel diciassettesimo secolo in cui manzoni sotto le mentite spoglie di un intendimento cattolico racconta utilizzando delle vicende storiche quello che invece è un percorso iniziatico lo stesso dante nella divina commedia racconta un percorso iniziatico nel mezzo del cammino a stravita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita è chiaramente un riferimento a un percorso interiore come la discesa nella caverna di platone la discesa negli inferi di orfeo quindi ci sono dei delle letture sottese a quest'opera che vanno ben oltre quello che è la concezione che solitamente gli viene rivolta e questo apre un tema che tu sai essermi molto caro che è la distinzione fra arte e cultura arte è tutto quello che è assoluto e che tende a confrontarsi con quelle che sono le leggi prime della natura e quindi anche con un concetto di etica assoluta e cultura che invece è un qualcosa che viene utilizzato prevalentemente per sviluppare degli interessi di parte e il modo in cui la divina commedia i promessi sposi e tante altre opere vengono lette è un modo di ammantare di colorazioni culturali un'opera che nasce con tutt'altri stimoli contatti con tutt'altri scopi tra l'altro cadendo un po nel così nel gossip tu sai che dante insieme orfeo ha un primato assoluto cioè uno dei pochi se non l'unico a scendere negli inferi per cercare la fidanzata e tornare esatto però sfigato orfeo che si gira per vedere se euridice lo sta seguendo e quindi la perde cosa che invece non fa dante questo richiama un episodio evangelico che è quello in cui gesù ammonisce maria maddalena non li metangere quindi non mi trattenere e già in questo si intende come l'amore che viene richiamato sia un amore spirituale erogamico non certo un amore sentimentale e ti fa capire come ci sia primo gradino di lettura esoterica chiamiamola così anche se è un termine che a me non piace tanto perché ha sempre un'accezione quasi negativa no beh sì però spesso si è detto anche di queste grandi opere che avessero delle valenze esoteriche guarda c'è un parallelismo e una sovrapposizione estremamente lineare puntuale fra tutte queste opere tutte da dai vangeli stessi a divina commedia a promessi sposi citati in cui lucia mondella non è altro che l'artefice prima della conversione dell'innominato sviluppando in lui quel quel dramma interiore notturno che poi solo le luci dell'alba risolvono quindi lucia mondella è la regina della notte in questo senso venere ma questo richiama un'altra opera che è il flauto magico di mozart in cui appunto c'è la regina della notte quindi tutte queste opere non fanno altro che raccontare sotto una sfumatura culturale diversa quello che è un percorso spirituale interiore in cui l'uomo ricerca nella congiunzione con la musica delle sfere perché poi la divina commedia è piena di riferimenti musicali quella congiunzione vibrazionale con l'universo intero argomento che abbiamo già trattato più volte a questa cosa ti lascia intendere come la lettura della divina commedia sia una lettura estremamente parziale quindi tutte queste letture fanno sì che io mi aspetterei me lo aspettava anche per leonardo due anni fa e non è successo che qualcuno possa incominciare una vera e propria rivoluzione culturale iniziando a raccontare i veri contenuti di queste opere partendo proprio dalla divina commedia perché perché c'è tanto bisogno di un rinnovamento culturale si parla sempre di nuovo umanesimo si parla sempre di affondare le radici in un'antica conoscenza ma affinché la nostra cultura è completamente assoggettate dettami di una visione cattolica questo risulta estremamente difficile quindi bisognerebbe incominciare a prendere un po' coraggio e a raccontare le cose per come sono senza ogni volta doversi scandalizzare o stigmatizzare la lettura che viene fatta come una lettura esoterica quindi come tale parziale secondo te anche il modo che dante ha utilizzato per scrivere la commedia anche quello ha un significato sempre nell'ambito delle vibrazioni dell'armonia allora sì sicuramente sì nel senso che la struttura dei tre cantici dei 33 i 33 richiama gli anni di cristo richiama le vertebre della colonna vertebrale che sono un riferimento primo per l'individuazione dei vari chakra un ordine massonico che non è altro che lo stesso riferimento quindi c'è una struttura letteraria che fa chiaramente riferimento a un qualcosa di fisiologico il rimando può essere volutamente e tranquillamente fatto anche al tempio di salomone no o all'ingresso in qualunque chiesa in cui l'accesso non è altro che l'accesso al nostro corpo interiore quindi quando si entra in una chiesa o quando si entra nel tempio di salomone non si sta facendo altro che rifare quel percorso che dante fa attraverso la selva oscura citata proprio in apertura del dell'opera il punto d'arrivo sono sempre quelle famose stelle a cui purtroppo malauguratamente un movimento politico ai giorni d'ostri ha tirato in ballo più volte però il riferimento è sempre del collegamento fra la nostra parte corporale materica e la parte dell'universo che si tende a allineare quindi dicevo una struttura 3 33 che richiama le tre nadi ad esempio orientali da shim e da pingala e shushumna e un riferimento ai tre aspetti della musica considerati dai pitagorici e da boezio cioè la musica strumentali che è quella più bassa che è quella degli strumenti quella umana che attiene alla nostra parte interiore quella mundana che appunto la musica delle sfere celesti che è quella musica che viene richiamata da dante alla chiusura del paradiso no lo diciamo che muove solo le altre stelle e qui c'è quel fraintendimento per cui l'amore viene letto come un sentimento amoroso ma in realtà è quel legame o quel vincolo vibrazionale a cui tutto si rifà che poi è quella locuzione di virgilio che su indicazioni beatrice accompagna dante che è omnia vincita amor cioè non l'amore vince su tutto o trionfa su tutto come viene banalmente tradotto con così un atteggiamento da baci perugina ma è l'amore che tutto lega vincola quindi è quel tessuto vibrazionale che fa da colonna portante di tutta la divina commedia ma che è la colonna portante di tutta l'opera leonardesca e tutta l'opera rinascimentale in cui i riferimenti musicali sono tantissimi e rifanno e si rifanno proprio a questa lettura della musica delle sfere celesti sì questo amore che poi dovrebbe essere diciamo così la la spinta di questa famosa energia che dovrebbe muovere tutto il cosmo giusto è l'energia con cui il cosmo si muove cioè nel momento in cui l'universo si è creato si è pervallo di energia che è la il codice genetico e la matrice di tutto quanto esiste nell'universo che probabilmente è lo stesso motivo per cui noi più di così non riusciremo ad evolvere nel momento in cui restiamo così privi d'amore sostanzialmente in realtà un'evoluzione possibile il problema è che siamo caduti talmente in basso e c'è una prevalenza tale di pulsioni basse l'inferno dantesco per cui probabilmente facciamo difficoltà a venirne fuori e questa difficoltà è legata proprio al fatto che queste conoscenze sono soggettate a dei dettami di convenienza culturale che non dal fatto di volere effettivamente conoscere le cose come stanno in realtà un'evoluzione possibile chiaramente non ci si può evolvere a un livello superiore dell'universo intero perché come ti ho già detto più volte l'universo un sistema chiuso quindi noi possiamo solo avvicinarci al sistema chiuso che l'universo rappresenta non possiamo certo pensare di migliorarlo e già in questo c'è un così tentativo egoico dell'uomo di voler fare meglio di chi di chi lo sta ospitando tu prima parlavi di riuscire a recuperare per esempio le nostre origini culturali e probabilmente cercare di far capire a chi studia che la divina commedia così come promessi sposi così come altre opere dovrebbero essere apprese in un altro modo il problema è chi forma i ragazzi quindi probabilmente di base già c'è una mancanza di sapere che non può essere successivamente diciamo dato a chi invece ha sete di questa cultura allora sì come tutte le rivoluzioni parte dal passo ed è una rivoluzione che possono partire dal basso nel senso che se siamo arrivati a questo punto è perché qualcuno ha avuto l'interesse a promuovere queste sfumature culturali diverse la rivoluzione come dicevo parte dal basso ed è una rivoluzione cognitiva non culturale cioè non si va a indagare le radici culturali che comunque non sono cattoliche perché il movimento cattolico nasce solo 2000 anni fa le radici cognitive sono ben anteriori io spesso litigo con litigo con tutti questo risaputo ma spesso litigioso magnani sì litigio con chi trova nel solo nel mondo greco piuttosto che nel mondo orientale piuttosto che nel mondo egizio le radici culturali di questa conoscenza no le radici di questa conoscenza sono alla base della fondazione dell'universo sono delle radici di carattere scientifico matematico geometrico e ricondurle a quelli che io ritengo essere solo dei punti di transizione che possono essere il mondo greco quello orfico prima non fanno altro che fissare dei punti intermedi in cui la conoscenza si permea di caratteristiche culturali che esulano poi da quella che è la matrice prima quindi il lavoro di individuazione della conoscenza deve essere un lavoro che va alla radice e la radice la possiamo solo leggere in quel bellissimo libro che sta dinanzi a noi come diceva galileo galilei che è l'universo e quindi possiamo imparare a conoscere attraverso l'emulazione delle leggi naturali cioè capire come la natura si muove non capire come l'uomo attraverso delle sommature culturali ha interpretato o narrato questo modo in cui la natura si compone l'esempio è proprio in quello che abbiamo fatto prima abbiamo visto prima cioè abbiamo citato un'opera bellissima che quest'anno celebreremo nei suoi 700 anni di anniversario come la divina commedia i promessi sposi le nozze il flauto magico di mozart nozze alchemiche l'opera di leonardo da vinci non sono altro che delle singole sommature che raccontano la stessa conoscenza allora la litigiosità che io oppongo agli altri è una litigia litigi vabbè è un litigiosità evitare di cadere in derive culturali ma di cercare di andare sempre alla sorgente di questa conoscenza e questa sorgente la troviamo solo ed esclusivamente nelle leggi naturali sì però di fatto questa è una opera tornando alla divina commedia che viene insegnata nelle scuole e probabilmente non ci sono docenti sufficientemente preparati per insegnare tutti quanti questi contenuti era un po questo quello che ti dicevo prima su questo sono d'accordo ma per arrivare a questo bisogna fare non sono tutti magnani ecco questo no no non sono tutti magnani per fortuna nel senso che poi io non è che distenga chissà quali capacità o caratteristiche il è più un fatto di onestà intellettuale che non un fatto di conoscenza oppure anche spesso un fatto di come posso dire di di forza di volontà perché a volte difficile ricostruire la conoscenza quando è molto più facile accettare una lettura di comodo che viene fatta quindi in questo sicuramente c'è una volontarietà individuale a dover ricostruire un percorso del genere è chiaro che se poi la scuola ti propone come percorso un percorso molto più allineato e condiviso chi si mette di traverso poi rischia di fare la parte del diverso e quindi di venire eliminato spesso no ecco è un duro lavoro di riconversione che deve piano piano integrare tutti quanti partendo dalle basi cioè da singoli individui che poi si aggregano si ritrovano fanno interviste condividono o criticano ad esempio chi fa una lettura errata di cultura e conoscenza in maniera tale che si corregga sempre più il tiro e chiaramente non dall'oggi al domani ma nel corso di una due tre generazioni si inverta una rotta oggi questa rotta non solo non la stiamo invertendo ma stiamo cadendo sempre più in una omologazione che tende a sdilire la conoscenza in relazione a invece delle letture culturali che poi sono penalizzanti che tendono a favorire invece purtroppo la politica l'economia e la finanza e in questo c'è un lavoro profondo da fare visto che comunque la mia radice resta quella di economista che è quella di approcciare e sviluppare un modo etico di fare economia attenzione etico cioè con un senso assoluto oggi purtroppo i vincoli assoluti che governano le scelte economiche e commerciali ci sono già però sono sviluppati in forma negativa cioè il pacchetto delle sigarette fatte seguendo i canoni aurei il posizionamento della merce nei supermercati è fatta in maniera tale con colori tali per cui il cliente viene inconsapevolmente attratto verso un acquisto questo modo etico all'incontrario di fare economia invece dovremmo insegnare che quelle stesse leggi auree di cui la natura si compone possono essere sviluppate per fare economia o commercio in maniera che possa essere utile per chiunque cioè si può fare economia senza contaminare il pianeta si può fare economia senza per forza di cose inondare il mercato di un qualcosa che poi il mercato stesso non può consumare c'è tutta una serie di cose che secondo me l'uomo in quanto comunità dovrebbe imparare a concepire oggi l'uomo non è coeso non è una comunità è un insieme infinito di con di comunità che rispondono a un insieme infinito di piccoli capetti questo fa sì che quello che dovrebbe essere un aggregazione dettata da un'etica diventa invece una disgregazione dettata da diversi riflessi culturali beh è un po come se oggi si accettasse così la condizione di homo economicus insomma e basta sì che che non lo siamo perché comunque è contro natura c'è esatto è come se noi avessimo dimenticato tutto il resto ce l'hanno fatto dimenticare via il problema che nel momento in cui qualcuno ce l'ha fatto dimenticare noi da canto nostro non abbiamo fatto nulla per non dimenticarci insomma c'è sicuramente c'è una grossa fetta di responsabilità la più grande rimane in capo ai propositori economici finanziari culturali ma chiaramente una grossissima fetta di responsabilità in capo nostro che abbiamo accettato e condiviso sempre tutto quanto c'è le comodità di non stare più a cucinare ma di prendere i piatti pronti addirittura non sai meglio di me le estremizzazioni con i mandarini già confezionati in spicchi piuttosto che delle aberrazioni totali che purtroppo il mercato propone e la comunità recepisce quindi il problema è sempre non tanto in chi propone ma in chi recepisce delle delle direttive che sono fallimentare secondo te questo mercato che diciamo abbiamo accettato perché andiamo troppo di fretta anche per fermarci a leggere un libro con la situazione che stiamo vivendo avrà un cambiamento radicale cioè si tornerà un po ad essere quello che abbiamo dimenticato allora ogni mattina che mi sveglio lo spero e lo auspico il problema è che dopo il primo caffè incomincio la mia ingenuità quindi in capo a dieci minuti questo sogno svanisce diciamo ci impiego un po di più a fare il caffè ora che realizzo chi sono dove sono però a parte gli scherzi non vedo in questo momento un punto di ritorno ma non lo vedo perché non c'è più quella diversificazione del potere decisionale che dovrebbe appartenere a qualunque comunità no che dovrebbe rispondere al nome di democrazia ma non risponde affatto e sempre più ci avviciniamo invece a un sistema oligarchico sia di carattere politico che economico finanziario la new economy sta accelerando sempre più questo processo per cui i ragazzini di 25 anni che creano una piuttosto che un giochino piuttosto che nell'arco di 23 anni mettono insieme decine di miliardi di capitale e chiaramente sono persone che hanno nessun riferimento di carattere cognitivo o etico e hanno dei patrimoni illimitati con cui continuare a fare quello che hanno fatto fino a quel momento c'è stata la questione negli ultimi giorni bruttissima delle censure su youtube colpito bio blu piuttosto che tante altre situazioni tutta l'amministrazione americana uscente che è stata bloccata eccetera eccetera e a me ha fatto impressione leggere che il fondatore di whatsapp ha ceduto a facebook per 19 miliardi di dollari il proprio prodotto no cazzo 19 miliardi di dollari con tantissima roba sì per qualcuno che si è specializzato in quello oggi ragazzini voglio fare gli youtuber a 10 anni capisci che quelli che sono dei modelli che la stessa società dovrebbe imporre vengono meno una volta c'era il modello del calciatore ricco e della velina adesso è diventato youtube 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 cioè la nuova tecnologia cose che crescono e spariscono nell'arco di cinque minuti creando delle ricchezze in mani e degli accentramenti di ricchezza pazzeschi poi queste ricchezze si trasmettono in un completo svuotamento di quello che invece è un patrimonio artistico i contenuti per chi ha 19 miliardi di dollari gli giro in cinque minuti va e si compra gli uffizi cosa succede c'è capito che c'è un auto regolamentazione etica anche del sistema che è completamente venuta meno ci sono delle letture in tutte quelle opere che noi stiamo analizzando in divina compresa divina commedia compresa che già sette secoli fa ammonivano 5 secoli fa 4 secoli fa c'è una bellissima lettura fatta da gaber di cos'è la cosa dovrebbe essere la democrazia di pochi anni fa eppure sono tutti moniti che non di cui non teniamo assolutamente conto e che ci avvicinano sempre più a una situazione in cui tutto è usa e getta tutto e questo usa e getta diventa estremamente redditizio per chi propone quei prodotti che il mercato in quel momento sta consumando e questo fa sì che la cultura e sottolineo la distinzione totale fra arte e cultura la cultura è figlia del proprio tempo l'arte è immortale l'arte è emulazione delle regole naturali quelle regole prime che dovremmo seguire o perseguire la cultura invece lo sviluppo e l'insediamento di modelli di vita quotidiana che sono diventati sempre più aberranti sempre più contrari al nostro essere quindi anziché spingerci a andare incontro a rivedere le stelle ci spingono sempre più nei meandri di quella selva oscura con cui la divina commedia inizia sono riflessioni importanti quelle che abbiamo fatto oggi e credo che insomma sarà buona cosa intanto tenerne conto perché come ci hai fatto notare tu ancora una volta è tutto concatenato e quindi anche la nostra vita potrebbe averne un trovamento se facessimo delle riflessioni sulle cose che abbiamo detto fermandoci quindi non continuando a vivere così velocemente come stiamo facendo no riccardo sì secondo me sarebbe anche opportuno visto che hai parlato di concatenamento che persone che hanno un barlume di coscienza e ravvedono questi percorsi riescono a fare un percorso comune anche significando talvolta quelli che sono degli interessi individuali cioè il riconoscimento di un qualcosa di forte attorno a cui così creare gruppo fare coesione che poi è lo spirito con cui i nostri padri hanno creato la costituzione creato dei fondamenti giuridici cioè tornare ad avere un senso di responsabilità e accantonare quel vizio fortissimo e bruttissimo che alla società moderna cioè l'individualismo l'autoreferenzialità abbandonare l'autoreferenzialità ed essere meno individualisti e un po più comunitari e questo dovrebbe svilupparsi nell'aggregazione di alcune persone che hanno questo spirito e che spero possano diventare sempre più tante me lo auguro me lo auguro anch'io grazie grazie intanto per essere stato me con me ringrazio riccardo magnani buona giornata buona giornata a te ciao iscriviti al canale youtube e segui il mio blog sul sito fabbrica della comunicazione ti aspetto con le mie interviste su davvero punto tv e tutti i giorni su focus radio